bello a tutti ragazzi e bentornati su footwork italia oggi si torna con l'ultima tedesca di serie a del campionato footwork contenti e un po tristi perché è stato un campionato fantastico ci avete seguito in questo percorso e oggi abbiamo deciso di concludere col botto richiametti un botto credibile ragazzi mi raccomando seguito il video fino alla fine perché questa sfida non cambierà nulla la classifica ma fa niente ci divertiremo come i pazzi tutti insieme ai commenti a scrivere che l'inter vince lo scudetto perché ce la faremo ragazzi ma cosa volete fare milan ragazzi iscrivetevi al canale perché ormai lo sapete vorremmo arrivare a 500.000 iscritti entro fine anno e sicuramente da soli non ce la facciamo perché siamo in quattro parliamo di tutto ragazzi per dare spettacolo e vi prometto che vi dedicherò una rovesciata su ogni squadra vediamo se ci riuscirò prima che inizia però la nostra tedesca challenge vogliamo parlarvi di un altro sport che mi piace tantissimo ovvero il tennis perché ragazzi lo sponsor del video di oggi è un gioco divertentissimo per mobile tennis clash è disponibile su android e ios e soprattutto ragazzi è bellissimo perché potete personalizzare i vostri giocatori completamente inoltre su tennis clash potrete partecipare a tantissimi eventi speciali come la recente collaborazione con il roland garo una delle competizioni di tennis più famose del mondo quindi ragazzi non vi resta altro che provare a scaricare tennis clash qua sotto con il nostro link iniziare a giocare e soprattutto cercarci perché noi ci giochiamo spesso e potreste incontrarci in una partita online e avere l'opportunità di sfidarci non siamo forti come siamo con il pallone però ci stiamo allenando stiamo migliorando ragazzi ci vediamo su tennis clash adesso ragazzi facciamo un punto in questo gioco vediamo chi vince tra i due andiamo andiamo sei pronto? 3, 2, 1 via batto sei scarso sei scarso non la prendi questa? no invece no ho fatto punto a gunter e visto che non dovevi fare troppo il galletto che dicevi a te è qualche settimana che ormai stiamo giocando tutti noi footwork a questo gioco e volete sfidarci anche voi su tennis clash soprattutto divertirvi con questo super gioco andate qua sotto in descrizione scaricatelo e ora iniziamo con la super tedesca di serial ragazzi è tutto pronto e partirà in porta il l'ultimo che tocca il tre piedi molto interessante per l'inter che parte il milano in porta ragazzi che sia di buon spicio o malapresa o malapresa butteremo giù il milan perché lo scudetto lo merita l'inter scrivete nei commenti inter mi sono messo davanti per non fargli vedere niente torna nel suo habitat naturale dobbiamo andare dobbiamo andare mamma mia oh ma di ruota non avanzare si no no era già fuori era già fuori buona bella questi colpi ragazzi sono per voi per la show è un gol si ho preso in aria bello questo è il primo che vi avevo garantito su una squadra è l'altista medico Bala è caldissimo vuole salutare il suo pubblico al meglio complimenti l'astassino contro Balco mi importa la Juve per favore perché? e qua mi stanno già fatemi incazzare il tradimento incredibile 1,2, adesso arriva al terzo mancino di palazzo di mancino sotto 7 paolo te raffa ragazzi ho toccato col tito, vado in porta, troppo onesto ragazzi scusatemi per questo volet, ma d'altronde lo sapete, su footwork italia solo per calcio guarda che schifo, vediamo che succede adesso mamma che schema grazie napolini e c'è, e c'è nooo, bravo, va bene, va bene, va bene così bella parte da jube, che scusa il colpo, in silenzio vai, vai, scaldati ragazzi è un po' troppo vicino, non deve niente essere della jube ragazzi ve l'avevo detto, un'altra romega è un po' troppo vicino, è un po' troppo vicino, è la romega è un po' troppo vicino, è un po' troppo vicino E ragazzi la Juventus in questa ultima partita del campionato ci saluta e magari la Juve l'anno prossimo tornerà a vincere il campionato Rossi, te ne saltissimo e palla che va fuori, è gol, è gol, non va mai fuori, non va mai fuori Mamma mia cosa ha preso Andanovi Mamma mia cosa ha preso E' il Napoli Allora hai cugini questi cross non dovrei farli ma se mi rimetti in tre ci sta Maccio, capa tonda Fuori Come scanna con il terceghi Vuole giocare il Milan con l'Itra, vuole giocare con l'Itra veramente, ok Milan? Subito un bolide, il Milan non la vede nemmeno, gli passa a fianco e sente una ventata d'aria fresca Siamo arrivati alla sfida rigori per decidere chi si giudicherà questi tre punti del campionato footwork Speriamo di far uscire le mie doti da portiere che non sono ancora uscite nell'arco degli anni ma potrebbe essere oggi quel giorno Andiamo a vedere Sfida finale, Gunther avanti di punteggio, molto probabilmente più bravo di me in porta Ora lo battezzo però sul primo rigore E' fortissimo ragazzi, ho calciato malissimo Ma va bene così Ma ti piaciuto il movimento che ti ha? No no non ho capito niente io hai deciso tutto tu Gunther mi ha sottovalutato, pensava che non avrei parato nemmeno quella ma non l'avrei parata se fosse entrata in porta Grazie a Dio però non ero nell'ottecchio Oh ma è fortissimo Ma come sono forti Ma basta Perché due parate su due Due parate su due Non mi riconosco più Forse sono veramente sbocciato e finalmente sono un portiere Dobbiamo chiuderla ragazzi, ora basta scherzare Prova battuta E finisce questa tedesca di Serie A Onestamente rigori calciati mali da me ma belle parate da te Ma soprattutto vittoria meritata dopo un campionato di footwork di Serie A dominato Quindi era giusto che vincessi anche l'ultima partita Adesso prima di farla chiusa chiamiamo le altre squadre e ci salutiamo Ragazzi l'emozione è tanta per questo finale di campionato Abbiamo un vincitore Gli farei un applauso Così si fortuna e non vince anche il prossimo Complimenti Conter hai vinto un paio di pantaloncini di footwork che hai già addosso Che fortuna Li potete trovare sul nostro sito www.wtwork.shop I video ovviamente continueranno nel periodo estivo ci saranno tantissime novità Se inoltre volete essere con noi una settimana Vi ricordiamo footwork camp noi ci saremo Vi alleneremo tutti i giorni della mattina alla sera Quindi ditelo ai vostri genitori ragazzi ci divertiremo come i matti Se il video vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi Chi è il miglior modo per supportarci E scaricate l'applicazione Tennis Crash qua sotto Vorremmo arrivare a quanti iscritti? 500.000 entro fine anno ragazzi Sono pochi ragazzi ci vediamo alla prossima Ciao